luciano pavarotti il volo e andrea bocelli pranzano insieme piatti tipici toscani storia di fantasia by grullo ecco una storia comica ambientata in toscana con i tre tenori italiani più famosi nel mondo luciano pavarotti il volo e andrea bocelli che gustano un pranzo tipico con i piatti tipici toscani luciano pavarotti e andrea bocelli un pranzo da tenori luciano pavarotti andrea bocelli e i tre giovani di il volo si ritrovarono in una tipica trattoria toscana pronti a gustare un pranzo indimenticabile il volo tre tenori italiani gianluca ginobile piero barone ignazio boschetto l'atmosfera era quella calda e accogliente delle case di campagna con tavoli imbanditi di prelibatezze locali toscane allora ragazzi esordì pavarotti sfregandosi le mani siete pronti ad assaggiare un vero piatto toscano il tenore luciano pavarotti a pranzo certamente maestro risposero all'unisono i ragazzi del volo gli occhi che brillavano di curiosità il pranzo epico dei tenori iniziò con un tagliere di salumi misti e formaggi locali il tutto accompagnato da un buon bicchiere di vino chianti antipasto toscano tagliere di salumi misti e formaggi locali toscani la padrona di casa una signora corpulenta e dalla risata contagiosa presentò il primo piatto una ribollita toscana fumante profumata questa spiegò è la regina dell'inverno ribollita toscana un brodo denso di pane raffermo cavolo nero e fagioli pavarotti assaggiò un cucchiaio e chiuse gli occhi con piacere magnifica esclamò un abbraccio per lo stomaco e per l'anima andrea bocelli bocelli annui sorseggiando un bicchiere di vino rosso un capolavoro della cucina povera ma dal gusto ricco e avvolgente il volo tre tenori italiani gianluca ginobile piero barone ignazio boschetto i ragazzi del volo abituati a piatti più raffinati si guardarono un po perplessi ma al primo assaggio i loro volti si illuminarono è davvero deliziosa esclamarono a seguire arrivarono i pici all'aglione un piatto che mise alla prova anche i palati più fini pici all'aglione piatto tipico toscano l'aglio presente in abbondanza fece lacrimare più di un commensale ma il sapore intenso e deciso conquistò tutti ma questo è un vero toccasana per le corde vocali scherzò pavarotti strofinandosi il collo andrea bocelli la bistecca alla fiorentina per i tre tenori italiani più famosi del mondo arrivò il momento clou del pranzo la bistecca alla fiorentina bistecca alla fiorentina florent in stick tipical tuscan meat dish un enorme taglio di carne sanguinante succulenta fu portata al tavolo e adagiata su una pietra ollare rovente questa disse la padrona di casa con orgoglio è la nostra regina una bistecca di chianina cotta alla brace come vuole la tradizione bistecca alla fiorentina tagliata florent in stick tipica al tuscan meat dish pavarotti da buon intenditore non si fece pregare magnifica esclamò afferrando il coltello un capolavoro della natura bocelli annui gli occhi lucidi di piacere un sapore intenso e deciso proprio come la voce di un tenore i ragazzi del volo un po' intimiditi dalla grandezza della bistecca si guardarono incerti ma al primo morso i loro dubbi svanirono è divina esclamarono all'unisono la bistecca fu accompagnata da patate al forno e una semplice insalata per bilanciare la ricchezza della carne il dopo bistecca alla fiorentina pavarotti beve il vino chianti toscano immagine di fantasia by grullo il vino rosso scorreva a fiumi e i discorsi si fecero sempre più animati tra aneddoti sulle loro carriere battute scherzose quando fu il momento del dolce la padrona di casa portò in tavola una schiacciata con l'uva un dolce semplice ma delizioso luciano pavarotti questa disse sorridendo è la fine del pasto perfetto i quattro tenori assaggiarono la schiacciata e si scambiarono un'occhiata complice avevano appena vissuto un'esperienza indimenticabile gustando i sapori autentici della toscana e stringendo un legame ancora più forte sapete disse pavarotti alzando il bicchiere la musica e il cibo sono due passioni che mi uniscono profondamente entrambe hanno il potere di emozionare e di farci sentire vivi luciano pavarotti e andrea bocelli cantanti tenori italiani famosi in tutto il mondo concordo rispose bocelli e la toscana con i suoi sapori autentici e la sua gente calorosa è il luogo perfetto per apprezzare appieno queste passioni un pranzo da re esclamò alzando il bicchiere amici per sempre brindarono gli altri sorridendo usciti dalla trattoria si incamminarono lentamente verso la loro auto cullati dalla sensazione di pienezza e soddisfazione un'esperienza indimenticabile concluse pavarotti guardando le stelle che scintillavano nel cielo notturno un pranzo da re in una terra di re e così tra risate canti e buon cibo si concluse questa giornata all'insegna della musica italiana più emozionante del mondo e il meglio della gastronomia toscana